Sofia Cagnetti ha dovuto abbandonare il programma Amici di Maria De Filippi ma è una ballerina davvero talentuosa. Ecco chi è. Talentuosa, versatile e piena di espressività, la ballerina Sofia Cagnetti è stata sicuramente uno dei talenti più grandi dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Purtroppo ha dovuto abbandonare la scuola a poche puntate dalla finale del programma, ma sicuramente ha lasciato il segno nei tanti telespettatori che facevano il tifo per lei. Ancora giovanissima, ha infatti la stoffa per fare successo nel mondo della danza e, all'uscita dalla scuola, è riuscita anche ad aggiudicarsi una borsa di studio molto prestigiosa. Ecco chi è Sofia e tutto ciò che c'è da sapere su di lei. Chi è Sofia Cagnetti, ex ballerina di Amici. Classe 2006, la giovanissima Sofia Cagnetti è entrata ad Amici di Maria De Filippi ancora minorenne, per compiere i 18 anni proprio all'interno della scuola il 6 gennaio 2024. Originaria di Ancora, la sua passione per la danza risale a quando era piccolissima. La ballerina ha confessato a Maria De Filippi, prima di abbandonare la scuola, come è nata la sua voglia di ballare? Avevo 5 anni e mezzo quando ho iniziato a ballare, anche se già da quando ne avevo due organizzavo spettacoli a casa. Fin dall'asilo volevo danzare, ma mia mamma mi ha fatto aspettare le elementari. Infatti la Cagnetti ha frequentato la scuola Urban Studios di Ancona, sotto la guida della coreografa Daniela Cipollone. Ha frequentato anche la compagnia Beyond, apprezzando lo stile hip-hop ma spaziando anche in altri genere come moderno, classico, contemporaneo, heels. Su di lei, a parte la grande passione per la danza, si sa che è appassionata di astrologia. Lei stessa, durante le audizioni, ha detto di essere in sintonia con il segno dei gemelli e con altri segni d'aria, il sagittario e i pesci. Nella scuola Sofia si è impegnata tanto arrivando fino al serale. Durante una delle prove nel pomeridiano, ha conquistato la possibilità di esibirsi nello spettacolo teatrale, Shine Pink Floyd Moon, dove danzerà insieme a molti ballerini professionisti. Inoltre, alla sua uscita dal programma, ha ottenuto un'importante borsa di studio presso la Geoffrey Ballet School di New York. Non si sa molto altro della sua vita privata perché sui social la Cagnetti posta soprattutto contenuti che riguardano la danza, quello che è certo è che sicuramente saprà farsi valere nel mondo del ballo.